buongiorno gobbi oggi il video dalla macchina come l'amico giornalista balsarini allora giornata di partita al derby io non mi aspetto nulla non so cosa aspettarmi sinceramente la formazione ha qualche novità in attacco giocherà ken e sarà in panchina uno tra valaovic e milic a metà campo non gioca paredes e per il resto voglio entrarsi poco perché voglio fare un altro discorso io mi inferocisco quando continuo a sentire che i giocatori della juve sono scarsi che è tutta colpa dei giocatori veramente io mi inferocisco perché non riesco a comprendere come sia possibile fare questo ragionamento nel momento in cui perdi col monza praticamente pareggi con la salernitana fiorentina sampdoria fai fatica col bologna perdi col maccabi haifa cioè io posso capire che se potrai capire il discorso se tu te la giochi fino alla fine poi quando è ora di tirar fuori i coglioni senza giocatori con qualità di un certo tipo e con personalità non ce la fai allora posso posso anche essere d'accordo ma per per fare meglio o meglio per non fare la figura obrobriosa che sta facendo la juve quest'anno venir sentir dire che ci vogliono giocatori più forti per me è fuori dal mondo uno perché i giocatori che la juve sono dei signori giocatori due perché anche se non fossero dei signori giocatori ma se fossero tutti mediocri non fa non puoi fare lo stesso non è possibile fare le figure che stai facendo quest'anno riguardo la partita di oggi paredes in panchina paredes voluto a tutti i costi da allegri perché volevo un regista paredes non sta giocando poi è vero che quando ha giocato è stato ridicolo nelle ultime prestazioni le ultime prestazioni fatte sono state pessime però io continuo portare avanti la mia idea che sono pessime perché l'allenatore non è in grado di tirar fuori il meglio dei giocatori che ha allegri aveva pirlo e poi ha avuto pianic secondo me due voglio farvi questo tipo di riflessione per farvi capire qual è l'idea di calcio e qual è la critica che io muovo da allegri pirlo e pianis due giocatori pirlo soprattutto pianis con le dovute proporzioni che avevano una capacità di vedere spazi movimenti un'inventiva e una fantasia incredibili pirlo soprattutto poi pianis ripeto con le dovute proporzioni però giocatori che erano in grado loro di crearti il gioco anche dove non ci fossero dei movimenti particolari in più erano all'interno di una juve che aveva dei signori giocatori che sapevano come muoversi che sapevano come guadagnarsi lo spazio come trovare l'imbucata come dettare il passaggio e secondo me allegri pensa che tutti i registi del mondo siano a quei livelli lì o che la squadra sia a quei livelli lì non è in grado di comprendere secondo me che uno adesso il calcio è cambiato e i registi ci sono dei registi molto bravi ma che devono avere delle condizioni attorno per poter dare il meglio due la juve non ha più quei giocatori lì che erano in grado di dettarti il passaggio di fare tutto quello che serviva da soli paredes come tanti altri registi che ci sono in giro adesso è bravo a verticalizzare è veloce a trovare l'uomo che si è smarcato a patto che ci sia un allenamento costante che permette ai giocatori di sapere dove si devono muovere come devono guadagnarsi lo spazio sapere come si devono posizionare a seconda di dove la palla a seconda di dove il playmaker con la palla tra i piedi se tu queste cose non le alleni paredes si trova davanti a una situazione in cui non sa cosa non sa cosa fare perché ci sono i giocatori che non sanno cosa fare questa è la critica che muove ad allegri allegri non allena questi aspetti i giocatori stanno dimostrando che non sanno cosa fare perché non hanno le qualità per essere in grado di decidere da soli come succedeva in passato quindi un paredes in queste condizioni dove ci sono giocatori che non vengono istruiti su come devono posizionarsi o guadagnarsi gli spazi a seconda di dove la palla a seconda della fase che sia offensiva che sia difensiva significa avere un regista che deve inventare al momento e parete se evidentemente questa caratteristica non ce l'ha quindi questo diciamo è il concetto di base che io cerco di portare avanti e che critico nella gestione tecnica di tecnico tattica di allegri oggi vedremo come va a finire ha messo su un centrocampo che più che di costruzione è di di fisicità anche se parlare di fisicità della juve al giorno d'oggi è un eufemismo vediamo io è un'agonia ragazzi per me è un'agonia non non so più cosa dire però purtroppo purtroppo non purtroppo ho questa passione per la juve per cui l'agonia la vivo ma allo stesso tempo non riesco a trattenere questi questi sfoghi non riesco a trattenere queste considerazioni su quello che per me è il principale colpevole ci vediamo dopo il derby speriamo bene ragazzi di non rovinarci anche questo weekend